Benvenuti nella guida PsycInfo della Biblioteca di Ateneo dell'Università di Milano Bicocca. Vedremo insieme come accedere a PsycInfo ed effettuare una ricerca semplice o avanzata. Vedremo anche alcuni consigli per migliorare la nostra ricerca e i nostri risultati della stessa, tra cui articoli First Posting. Utilizzeremo il Tesaurus per renderla ancora più precisa se necessario prima di salvare i risultati. Scopriremo infine le funzionalità 2.0 di PsycInfo. PsycInfo è una banca dati che descrive e indicizza la letteratura internazionale in campo psicologico e delle discipline correlate. È curata dall'American Psychological Association, APA. È una tra le banche dati più utilizzate nella ricerca bibliografica di psicologia, grazie all'ampiezza del contenuto, all'accuratezza dell'indicizzazione e alla copertura temporale. PsycInfo contiene oltre 4 milioni di record bibliografici, dati del gennaio 2016, aggiornati settimanalmente e relativi ad articoli di riviste, libri, singoli capitoli e tesi. Annualmente vengono inseriti circa 60.000 nuovi record. Le riviste presenti nella banca dati sono circa 2.500 e il 99% sono peer-reviewed, ovvero la validità scientifica degli articoli è assicurata da un severo metodo di valutazione precedente la pubblicazione. La banca dati è consultabile attraverso l'interfaccia di ricerca ProQuest. Per ogni documento sono indicati titolo, autore, fonte, abstract e numerose altre informazioni. Spesso è riportata la bibliografia. I record inseriti a partire dal 1967 sono indicizzati utilizzando il Thesaurus of Psychological Index Terms. PsychInfo offre la possibilità di accedere al full text dell'articolo se la biblioteca ha un abbonamento attivo con la rivista. Come in molte altre banche dati, ciò è possibile attraverso il software SFX e il relativo pulsante. In ogni caso, di tutti gli articoli, PsychInfo fornisce la citazione bibliografica e l'abstract. In ogni caso, di tutti i articoli, PsychInfo fornisce la citazione bibliografica e l'abstract.